Vittorio Guerrelli, Supernova International, second place. Vittorio, come era questa raccoglia per te? Sì, ho fatto un buon start, ho passato il quarto in la prima volta, andato all'outside, e ho avuto un buon run. Poi ho cercato di attaccare Kimia, ma è molto difficile passare in questa raccoglia. Non avevo lunghi strati, quindi ho deciso di fare un pitt stop, per provare a passare con la raccoglia. Ma poi ho avuto il testo per cuore, quindi nulla. Ti stavo dietro, e ho cercato di attaccare. Poi quando abbiamo avuto Sergio e Della Roca, erano lucky e ho avuto a passare due tra i turno 1. Ho avuto un po' di due, quindi ho avuto molto tempo. Poi ho avuto due, e i passare due correnti, la pace è stata buona, ma nulla. and then you can use too far away because i lost a lot of time behind those two and nothing anyway did the weekend to podiums a third and second let's hope the next race better